Il comune di Trani tornerà ad assumere propri dipendenti, un momento importante per la vita dell'ente al termine di un lungo percorso di riorganizzazione della macchina amministrativa. Con atto dirigenziale è stato approvato infatti lo schema del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di vari profili professionali. Si tratta in totale di 28 posizioni aperte, tra cui specialisti amministrativi, assistenti sociali, istruttori amministrativi, istruttori contabili, ma anche istruttori informatici e tecnici. È una determina storica, lo è perché sono passati 33 anni dall'ultimo concorso per la Polizia Municipale, mentre nessuno ricorda in questo ente un concorso per accedere, invece c'è per diventare dipendente del Comune di Trani, penso quindi dal geometro piuttosto che un istruttore contabile tecnico o amministrativo. Considerate che il prossimo passo avverrà nei prossimi giorni quando pubblicheremo i sei bandi per chiaramente i sei diversi profili professionali. Un risultato che il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, definisce storico per l'ente. Al termine delle procedure ad evidenza pubblica il Comune potrà contare su quasi 200 dipendenti in totale. Il primo cittadino però ricorda anche da dove si è partiti per giungere a questo risultato. È un po' la ciliegina su una torta che in un certo modo ripercorre 5 anni. Nei questi 5 anni siamo partiti in un modo, io direi disastroso. Penso a 5 anni fa quando non avevo dirigenti, quando praticamente avevo 20 al massimo agenti di Polizia Municipale, quando praticamente avevamo un numero di dipendenti bassissimo che peraltro ha dovuto anche subire la forte riduzione dovuta a quota 100 e quindi tutti ai pensionamenti che nessuno aveva previsto. I bandi di concorso saranno pubblicati nei prossimi giorni e le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Le assunzioni saranno effettuate nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre le graduatorie finali di merito, oltre che per la copertura dei posti messi a concorso, potranno essere utilizzate per eventuali ed ulteriori necessità. 5 anni di grande lavoro sulla macchina amministrativa, stanno dando già chiaramente i loro frutti, lo si vede in città per quello che sta avvenendo, ma lo si vedrà ancora di più nei prossimi anni quando praticamente la macchina sarà ancora più completa, ancora più lasciatelo dire formata. Mi faceva piacere completare questo mandato proprio con questa ciliegina sulla torta.